A voi vi viene un po' di nostalgia vedendo degli oggetti particolari? No, abbiamo anche la nonna a casa. Come il figurifero. Sono in coppia? Sono in coppia, li portiamo qua tutte e due adesso. A lei le viene un po' di nostalgia di queste... Ma a me la nostalgia mi viene sempre. Ma uno può vivere con questo senso di nostalgia continua? No, assolutamente, bisogna sempre prendere atto dell'attualità. Non ha nostalgia di un'epoca, di quando si stava meglio? Come no, come no? Del 60. Stavo cercando la nostalgia ma non c'è. Abbiamo buttato dei mobili e delle cose che adesso invece... Le viene? Sì, mi viene nostalgia e mi rendo conto che hanno anche un valore. Nostalgia, nostalgia, canaglia. Chi è la Lumina Power? Tutta un'altra musica. Questa? Questa è quella, me lo sai l'intero, del 1928. Ma che senso ha venire e comprare una maglia degli anni 50 magari? Uno soffre di nostalgia. Perché per noi invece c'è qualcosa dentro che non va.